Tra qualche istante andrà in onda il TG News, la controinformazione dei sopravvissuti italiani e della rete l'abuso. Vi ricordiamo che il programma è sottotitolato in 5 lingue che potete selezionare dalla sezione sottotitoli. Buona visione! In un momento si trasmittirà TG News. Contra informazione dei sopravvissuti italiani e della rete l'abuso. Vi ricordiamo che il programma è sottotitolato in 5 lingue che potete selezionare nella sezione sottotitoli. Buona visione! Buona visione! In wenigen Augenblicken können Sie hier die TG News sehen. Sie finden Nachrichten von italienischen Betroffenen und dem Betroffenennetzwerk in Italien, Rete l'abuso. Das programma wird in 5 Sprachen untertitelt, die Sie im Menü auswählen können. Viel Spaß beim Ansehen! La sentenza di condanna per Don Livio Graziano, sacerdote alla guida di una comunità di Prata Principato Ultra, è diventata definitiva. Don Livio era stato condannato a 8 anni di reclusione per gli abusi su un minore. I magistrati della prima sezione penale della corte di Cassazione hanno confermato la condanna emessa nei confronti del sacerdote in primo grade dal Tribunale di Avellino e in appello a 8 anni di reclusione, rigettando per inammissibilità l'appello dei difensori. Il 13enne i genitori costituiti parte civile nel processo sono stati rappresentati dall'avvocato Mario Caligiuri del Foro di Roma, mentre il sacerdote è stato difeso dagli avvocati Carlo De Casola e Giampiero De Chicco. Dopo la condanna definitiva, ora Don Livio Graziano dovrebbe tornare in carcere. La famiglia, come si legge in una nota apparsa sulla pagina ufficiale della rete l'abuso, ha espresso gioia per questa patita sentenza che gli ha reso quella giustizia che la Chiesa non ha reso. Sei anni e sei mesi, questa la condanna in primo grado emessa dal collegio del Tribunale di Busto Absizio nei confronti di Don Emanuele Tempesta, 32 anni. L'ex parroco, vicario di Busto Garolfo, nel milanese, era stato arrestato il 15 luglio 2021 ed ora è stata confermata in primo grado l'accusa di abusi sessuali sul minore. Il pubblico ministero, Martina Melita, aveva chiesto una condanna a 11 anni al termine della requisitoria. Tra le pene accessorie anche il divieto di avvicinarsi a scuole o luoghi frequentati da minori. Oltreventi le parti civili con risarcimento compresi tra i 750 e i 2000 euro. L'avvocato del sacerdote, il legale Mario Zanchetti, è pronto molto probabilmente a fare ricorso in appello. Stando a quanto emerso già dalle indagini, gli abusi si sarebbero consumati nell'abitazione del sacerdote dove solo alcuni dei piccoli sarebbero stati invitati per giocare a videogiochi o fare due chiacchiere. Qui poi sarebbero avvenuti gli abusi quando il Don aveva 29 anni. I minori vittime invece delle sue violenze avevano unità compresa tra i 7 e gli 11 anni. I bambini sono stati sentiti dalle controparti con la formula dell'incidente provatorio. Ora si attendono le motivazioni della sentenza che saranno depositate in 60 giorni. Il tema degli abusi sui minori nella Chiesa, diluito nel mare degli abusi sui minori nella società, su internet e nello sport. Un elogio delle iniziative della Chiesa italiana e del Vaticano per contrastarli, iniziative parziali, lente, astratte, farraginose, che nascono già vecchie. E poi l'ennesimo no a una commissione indipendente di inchiesta. Può essere sintetizzato così il senso del convegno organizzato dalla CEI e dall'ambasciata italiana presso la Santa Sede il 29 maggio, dal titolo Abusi sui minori, una lettura del contesto italiano 2001-2021. Diversi gli esperti invitati a parlare, ma le informazioni più rilevanti sono quelle fornite da alcuni degli intervenuti e i giornalisti in margine al convegno. A proposito del processo contro l'ex gesuita Rupnik, Monsignor Kennedy, segretario della sezione disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede, ha detto che è iniziato veramente bene e passo dopo passo stiamo tenendo conto di tutti gli aspetti, quello delle accuse contro di lui, l'aspetto delle vittime, quello dell'impatto sulla Chiesa. È delicato, in questo momento non posso dire di più. Peraltro, il prelato irlandese ha sottolineato che la strumentalizzazione di immagini spirituali a fini sessuali utilizzata anche da altri abusatori e normalmente definita falso misticismo, un crimine contro la fede, non costituisce ancora una fattispecie giuridica nel diritto canonico e dunque allo stato attuale non prevede una pena. Quanto invece alla collaborazione tra CEI e Dicastero, che nelle parole pronunciate dal presidente CEI Cardinale Zuppi nel 2022 doveva consistere nella trasmissione dei 613 dossier di abusi sessuali esaminati dal Dicastero tra il 2001 e il 2021, essa non esiste nella forma in cui era stata illustrata. Ha informato infatti Kennedy, di per sé il nostro lavoro non è con le conferenze episcopali, è con il vescovo singolo e con il superiore generale di ogni ordine religioso, sono loro, i nostri interlocutori. Se una conferenza episcopale vuole avere delle statistiche può chiedere alle diocesi di fornirle, non è un lavoro che facciamo noi. Venuto a mancare il contributo del Dicastero Vaticano nella trasmissione diretta alla CEI dei 613 dossier riguardanti i casi di abusi sessuali su minori, la Chiesa italiana ha dovuto ricalcolare il percorso, come fanno i navigatori. Di qui lo studio pilota illustrato dalla neopresidente del Servizio Tutela Minori della CEI Chiara Griffini, uno studio che, ha detto, consentirà di svolgere delle ricerche che consentiranno di avere una fotografia del periodo 2001-2021, un'analisi qualitativa e quantitativa nella quale saranno appunto i singoli ordinari del luogo a fornire i dati. Due le fasi del progetto, la prima una ricerca multidisciplinare su un campione e poi estesa alle altre diocesi, la seconda una fase di analisi e riflessione. Il tutto sarà condotto da due enti indipendenti, l'Istituto degli Innocenti, azienda pubblica di Firenze, e il Centro Interdisciplinare sulla Vittimologia e la Sicurezza dell'Università di Bologna. Tutto appare dominato dall'incertezza e dalla speranza. Si auspica, ma non è certo, che il lavoro sia completato entro la fine del 2025. Si spera che da questo studio possano definire criteri per poter affinare qualcosa che intercetti in realtà ancora sommersa, così sempre la Griffini. L'obiettivo? Non avere dati nuovi, ma spiega la neopresidente del Servizio Tutela Minori, offrire una lettura qualitativa e quantitativa dei dati già esistenti. Un compito che appare piuttosto limitato e parziale in confronto a quanto avvenuto in altri paesi e che taglia fuori, ad esempio, i dossier approdati alla giustizia civile, fermandosi a quella piccola parte dell'emerso denunciata dai vescovi al di castero e fermandosi oltretutto già a tre anni fa. Alla fine di gennaio è stato pubblicato lo studio del forum sugli abusi nella crisi evangelica in Germania. I risultati di tale analisi dimostrano la dimensione sistemica dell'abuso sessuale e spirituale al suo interno. Almeno 2.200 vittime accertate, che sommate ai casi in fasi di accertamento, potrebbero portare a oltre 9.000 ai minori vittime di abusi nella chiesa evangelica dal 1946 ad oggi, con un numero di presunti abusatori che supererebbe le 3.000 unità. Di fronte a questi risultati, la chiesa evangelica riformata dalla Svizzera e le sue chiese membro, si sono poste diverse domande. In che misura lo studio può essere trasposto nel contesto svizzero? Quali sfide ecclesiali e teologiche pongono i risultati? Quali questioni aperte potrebbero essere chiarite da un studio condotto in Svizzera? Quali lezioni è possibile imparare dallo studio per rendere le chiese uno spazio sicuro? In vista del sinodo annuale, che si tratta dal 9 all'11 giugno a Nechatel, è stata organizzata lunedì 27 maggio un'intera giornata di studio sul tema delle violenze e degli abusi in istituzioni ecclesiastiche. Il convegno organizzato dal gruppo Donne e Genere della CERS si è interrogato sull'importanza di questi risultati per la Svizzera. Questi dimostrano in particolare la dimensione sistemica dell'abusso sessuale e spirituale all'interno della chiesa tedesca. Il Consiglio della Chiesa Riformata Svizzera propone al sinodo di realizzare uno studio sull'abusso sessuale, lo studio della dota di tre anni che il Consiglio intende affidare all'Università di Lucerna. Consisterà in uno svolgimento sia di un sondaggio rappresentativo della popolazione generale, sia di uno studio partecipativo. Il mandato di questo studio comprende tre obiettivi. Da un lato un sondaggio telefonico rappresentativo su 20.000 persone della popolazione svizzera dovrebbe aiutare a offrire la possibilità di presentare stime attendibili sull'identità di abusso sessuali commessi nell'ambiente ecclesiale e di confrontarle con altri ambiti della compagnia. Sarà necessario identificare la forma e l'intensità degli atti, gli autori di circostanze specifiche in cui si verificano gli abusi sessuali nei chiese, nonché le conseguenze per le persone interessate. Inoltre, tutti gli interessati che lo desiderano potranno riportare le proprie esperienze ed esprimersi sui temi sopra menzionati, garantendo il proprio anonimato nell'ambito di uno studio partecipativo non rappresentativo. Questo approccio mira a rivelare fatti e casi ancora sconosciuti, non documentati in nessun fascicolo fino ad ora. I risultati dello studio dovrebbero essere utili non solo per le chiese, ma per la società nel suo insieme, al fine di identificare i rischi, prevenire il più possibile gli abusi e sostenere adeguatamente le persone colpite. Abbiamo bisogno di questo studio per poter identificare e prevenire gli abusi sessuali nella chiesa e nella società. L'argomento è molto importante e non dovrebbe più essere un tabù. Insieme abbiamo il dovere di agire adesso. Lo dobbiamo alle persone colpite e a tutti coloro che di conseguenza potranno sfuggire la condizione di vittima, dichiara Rita Famos, presidente della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera sul sito di internet della Chiesa stessa. A questo scopo il Consiglio della CERS richiede un budget di 1,6 milioni di franchi svizzeri. La differenza con la Chiesa Cattolica Svizzera, che aveva aperto i suoi archivi, appare quindi netta. Si sceglie una via nuova, quella di un sondaggio anonimo, basandosi sul numero di persone scelte con criteri di rappresentatività dell'intera popolazione. Basterà un sondaggio del genere per far luce su questa spinosa questione? E quando si chiede il giornale Reforma, cercando di fare chiarezza con Pierre Philippe Blaser, vicepresidente del Consiglio della CERS, negli archivi delle Chiese riformate della Svizzera, che sarebbe stato molto difficile reperire a causa del nostro funzionamento federalista, avremmo forse trovato gli elementi riassuntivi sui casi di abusi, sulle decisioni prese per darvi seguito, ma ciò non sarebbe andato abbastanza lontano. Attraverso un sondaggio rappresentativo è possibile comprendere le costellazioni che rendono possibili gli abusi nei nostri ambienti ecclesiali riformati. Questo metodo potrebbe rivelare casi precedentemente sconosciuti e consentire di valutarne le entità. Due o tre cose da tenere a mente quando si legge una notizia di cronaca che riguarda membri della Chiesa o della Santa Sede sui principali giornali del nostro paese, oppure quando questa notizia viene data su uno dei TG della RAI. In Italia è cosa rara l'informazione sulle cose di Chiesa indipendente dalla Chiesa stessa. Quasi tutte le notizie più importanti che passano attraverso i media generalisti arrivano direttamente dalla sala stampa della Santa Sede o sono filtrate da vaticanisti, giornalisti cioè formati e accreditati presso la sala stampa vaticana e che rischiano di perdere l'accredito in caso di articoli non graditi da casa madre. A parte rare eccezioni, le inchieste o gli approfondimenti sui lati oscuri della Chiesa quasi mai vengono approcciati con una visione realmente laica e indipendente e deontologicamente ineccepibile nel nostro paese. Al contrario, si raccontano in maniera del tutto parziale, cioè solo dal punto di vista della Chiesa, le situazioni di criticità che riguardano tutto ciò che accade dall'interno e in prossimità delle mura leonine. Un altro elemento fortemente indicativo è rappresentato dal numero di testate giornalistiche riconducibili alla Chiesa che nel nostro paese usufruiscono dei fondi pubblici all'editoria. Come ho ricostruito in un'inchiesta sulla rivista Nessun Dogma, su 117 giornali e periodici che si spartiscono i contributi, ben 55, cioè il 47%, sono testate riviste di chiara matrice cattolica, se non addirittura organi di stampa che fanno capo ad alcune delle 224 diocesi italiane. In pratica quasi un giornale su due finanziato dallo Stato ha come editore di riferimento la Chiesa. Poiché tre indizi fanno una prova, ne cito un altro. Mi riferisco al solido accordo di recente rinnovato tra la RAE e la conferenza episcopale per la trasmissione di contenuti religiosi nella televisione pubblica. Un'intesa che ha rafforzato il numero di trasmissioni a contenuto religioso e di religiosi nelle trasmissioni della tv pubblica in un palizzesto già a zeppo di fiction a sfondo religioso e dove già la Chiesa cattolica sfiora il 100% di presenze sul totale dei soggetti confessionali e dove nei tre tg nazionali ma anche nei principali telegiornali privati il papa è più presente del presidente Mattarella. E poi ci sono i giubilei e le beatificazioni, veri e propri strumenti di autopromozione a spese del contribuente italiano che oramai vengono utilizzati con scadenze sempre più ravvicinate. Come ricordano diversi studiosi, dato che per quattro secoli in età moderna e contemporanea i pavi sono stati quasi tutti italiani, il nostro paese è diventato una terra privilegiata di destinazione del messaggio e di formazione di una mentalità religiosa collettiva. E abbiamo i principali quotidiani che quando scrivono del papa usano l'epiteto sua santità o analoghi accettando acriticamente la dimensione crelicare che è insida in questa terminologia contribuendo così a far attecchire questa mentalità. Così a poco a poco l'opinione pubblica italiana perde di vista alcune cose fondamentali per sviluppare il proprio senso critico. Per esempio, per esempio è bene ricordare che la Santa Sede è una monarchia assoluta governata da una casta maschile celibe di circa 200 cardinali. Il papa detiene il potere assoluto della Chiesa Cattolica e nella dimensione politica riassume i tre poteri nella sua persona esercitati generalmente tramite delega, quello legislativo, esecutivo e giudiziario. Tutti gli devono obbedienza attraverso le vie gerarchiche. Il pontefice è colui che insieme a quella casta decide le regole morali a cui si devono attenere loro stessi, il clero e soprattutto l'enorme numero di fedeli nel mondo e anche l'Italia. Sono sempre meno a dire il vero. La prima conseguenza di una struttura organizzata in questo modo è la mancanza di trasparenza che nell'informazione ma anche nell'attività giudiziaria della Santa Sede raggiunge livelli più elevati. Perché a Monte c'è l'idea che il papa, cioè la Chiesa Cattolica, non deve giustificarsi con nessuno di ciò che fa e dice. Delle proprie azioni e decisioni il pontefice risponde solo a Dio e a se stesso, al di là della coerenza con le cosiddette Sacre Scritture, la tradizione e il Magistero della Chiesa. Pensiamo a quanto accaduto in Irlanda il 20 luglio 2011. Ecco cosa affermò quel giorno il premere irlandese, Enda Kenny, in un drammatico discorso in Parlamento davanti alla Camera Bassa, dopo la conclusione di un'indagine governativa sulla pedofilia nella Chiesa irlandese. Il rapporto della Commissione Cloyne, disse Enda Kenny, ha evidenziato il tentativo della Santa Sede di bloccare un'inchiesta in uno Stato sovrano, non più tardi di tre anni fa, non trent'anni fa. Per poi aggiungere il premere irlandese, il rapporto Cloyne fa emergere la disfunzione, la disconnessione e l'elitarismo che dominano la cultura del Vaticano. Lo stupro e la tortura dei bambini sono stati minimizzati per sostenere invece il primato delle istituzioni, il suo potere e la sua reputazione. Quanto descritto fin qui accadeva durante il pontificato di Benedetto XVI. Con Papa Francesco poco o nulla ha cambiato, anche se nel 2019 è stato fatto un importante passo cioè l'eliminazione del segreto pontificio. Nel 2014, quando il segreto pontificio era ancora in vigore, gli ambasciatori di Papa Francesco presso le Nazioni Unite opposero un netto rifiuto a due diversi comitati ONU, quello per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e quello contro la tortura, che chiedevano alla Santa Sede la lista con i nomi dei circa 900 sacerdoti pedofili ridotti allo stato laicale nel decennio precedente, dopo essere stati condannati dalla Congreazione per la Dottrina della Fede ed espulsi dalla Chiesa. Ad oggi quei nomi risultano ancora ignoti e 900 pedofili, cinque anni dopo l'eliminazione del segreto pontificio, circolano liberamente nella più totale inconsapevolezza di chi li frequenta e nessun giornalista in Italia ha mai chiesto di questo al pluripresente e celebratissimo in tv e sui media italiani, Papa Francesco. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'abuso news, vi auguriamo un buon weekend. Grazie a tutti!